Nei giorni scorsi, dopo essere entrati a far parte della classifica top pizza con le pizzerie dove prestano la propria attività professionale, i pizzaioli schitani Ivano Vecce e Marco Manzi hanno ottenuto, rispettivamente per conto della pizzeria Giotto Bistrò di Firenze e della pizzeria Quinto di Roma, i tre spicchi prestigioso riconoscimento del gambero rosso, che ha consacrato definitivamente i due famosi pizzaioli schitani tra i migliori d'Italia. Un grande orgoglio, non solo per loro, ma per tutta la comunità ischitana. Ebbene, Ivano e Marco, dopo la nomination, hanno materialmente ritirato l'attestato dell'importante riconoscimento presso la mostra d'oltremare di Napoli, dove hanno potuto incontrare colleghi giunti da tutta Italia. Ivano Veccia e Marco Manzi davanti alle nostre telecamere hanno espresso tutta la loro soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dal gambero rosso. Una grandissima soddisfazione per questo premio, ma un'altra soddisfazione è ritornare a stare insieme con tutti quanti. Questo è stato il primo evento che ci ha rimessi insieme, ci ha visti i migliori pizzaioli d'Italia. Eravamo, i tre spicchi mi sembra 88, più premie speciali. Quindi rivedere tutti insieme e stare lì a festeggiare è stata una gioia immensa. Poi al momento della premiazione c'è stato, devo dire la verità, un lungo applauso. Mi sono un po' emozionato quando ho ricevuto sia la giubba con i tre spicchi e l'attestato. Poi c'è stato anche Marco, gli unici due schitani, eravamo molto contenti, infatti ci siamo fatti il video a vicenda, no? Tu lo fai a me, tu lo fai a me. Poi la foto finale, ho rivisto dei vecchi amici che non vedevo da tempo. Insomma, volevo ringraziare sempre il mio staff a Roma, tutti i miei ragazzi, a Peppe, Angelo, Valerio, Davide, Matteo. E anche la proprietà, tra cui Simone, Valerio, la signora Sabrina, tutto lo staff di Quinto. Veramente che dopo questo anno di sofferenza ci siamo meritati questo premio. È stata una grande soddisfazione ricevere i tre spicchi del gambero rosso, questo premio importantissimo. È il quinto anno che abbiamo la riconferma. Ogni anno comunque dietro c'è un duro lavoro perché comunque il pensiero è di mantenerle e migliorare sia il nostro prodotto che il nostro servizio. Quindi ogni anno è una sfida, ogni anno è un obiettivo da raggiungere. E siamo felicissimi di aver passato questa giornata qui a Napoli con il gambero e con tutti gli altri colleghi. E volevo fare i miei complimenti anche a Ivano Veccia che quest'anno è rientrato prendendo i tre spicchi del gambero rosso anche lui.